Stagione estiva che inizierà molto molto bene sulla nostra penisola ovviamente per tutti gli amanti del sole perché l'anticiclone nei prossimi giorni dall'oceano si estenderà verso l'Europa meridionale quindi tra Spagna, Francia e raggiungerà poi tutte le nostre regioni e probabilmente durerà molti giorni anche fino al 22-24 giorni con stabilità sole protagonista su molti settori a parte dei temporali di calore sull'arco alpino, dorsale appenninica ma via libera per tutti i vacanzieri del mare perché troveranno condizioni più che tranquille con temperature che saranno appunto estive, valori oltre i 30 gradi su molte zone di pianura ma anche tutte le zone interne specie della parte tirrenica perturbazioni che scorreranno più a nord da ovest verso est sulle isole britanniche via verso l'Europa centrale qui un po' di instabilità dettagli maggiori però sull'app di Trevi Meteo